Allora, eccoci qua, pronti per una nuova puntata in formato verticale Adesso il fischio mi è venuto bene Non ho una puntata di Scrivo Facile, quindi andremo a parlare un po' di un argomento di cui si parla veramente poco nei circoli degli autori indipendenti Ed è il fatto di ciò che sta succedendo ad Apple Quindi tutti quanti ovviamente ci preoccupiamo, come al solito, di Amazon È ragion veduta perché comunque sia Amazon è il principale introito per noi autori indipendenti È la fonte di introito maggiore Ma tuttavia non dobbiamo dimenticare che esistono anche altre piattaforme sulle quali possiamo puntare Una fra tutte, per esempio, può essere Kobo Ma oltre a questo c'è anche l'Apple Store Il problema è come facciamo ad approdare sull'Apple Store? Al momento è possibile pubblicare sull'Apple Store, quindi su iBooks, tramite degli aggregatori Quindi potrebbe essere Streetlib, o YouCanPrint, o Draft2Digital Tramite questi aggregatori possiamo approdare al negozio online di Apple Oltre a questo, di recente, mi pare proprio l'anno scorso se non vado errato Apple ha rilanciato alla grande la propria piattaforma per l'autopubblicazione A quanto ho sentito è davvero fatta bene È molto semplice, intuitiva, ha un design molto pulito Quindi si sa poi alla Apple fanno le cose fatte bene Però il problema è che in questo momento è disponibile solo per il mercato americano Ovviamente funziona sempre così, queste grandi aziende americane Prima testano i propri prodotti, le proprie novità sul loro mercato interno E poi piano piano le allargano anche agli altri mercati Una volta che sono sicure e hanno testato che funziona Quindi questo ci dà comunque una visione di insieme di quello che sta succedendo ad Apple Che si sta piano piano espandendo, oltre la semplice telefonia mobile E oltre ovviamente i computer, il mondo dei laptop eccetera eccetera Si sta espandendo molto, non ultimo per esempio la notizia come sapete della Apple Car E quindi una macchina totalmente indipendente che si guida da sola Grazie all'intelligenza artificiale che dovrebbe uscire tra qualche anno Ancora non si sa bene, ci sono indiscrezioni, potrebbe uscire uno, due, tre anni, non si sa Comunque ci stanno sicuramente lavorando Oltre a questo quindi ad Apple sanno bene che i propri utenti sfruttano l'Apple Store Anche proprio per acquistare libri E poterli leggere comodamente per esempio sul proprio iPad Ecco perché ultimamente hanno ampliato la propria piattaforma per l'autopubblicazione In modo che gli autori possono finalmente approdare a quello store in maniera diretta Ma non finisce qui Ci sono altre novità ad Apple che ci possono interessare Una fra tutte non è una notizia molto piacevole per le nostre strategie di marketing Ma è una notizia in realtà assa e buona per gli utenti di Apple Ed è la notizia che è venuta fuori l'anno scorso Mi pare verso la fine dell'anno scorso, lo scorso autunno, qualcosa del genere mi sembra Che in pratica all'Apple hanno rivisto la propria policy In fatto di privacy Quindi per tutelare i propri utenti dopo gli scandali che sono scoppiati su Facebook Oggi Meta Per proteggere la privacy dei propri utenti Hanno fatto in modo che gli utenti possono tramite le impostazioni del proprio iPhone Disattivare i sistemi di tracciamento che molti siti ci lasciano E questo anche poi per le mail oltre a questo Quindi questo si riflette sulle tecniche di marketing che noi possiamo adottare Per cercare di tracciare che cosa fanno questi utenti che hanno l'iPhone Per esempio Ciò si vede soprattutto in ambito del mail marketing Perché non è possibile ormai più tracciare perfettamente l'email L'apertura dell'email per chi le apre diciamo con il proprio iPhone O quindi con altri device di Apple Ok, questo proprio per salvaguardare la privacy Quindi in questo momento è un po' più complicato Riuscire a raggiungere quelle persone E a capire se effettivamente hanno aperto la nostra email Vogliono acquistare i nostri prodotti eccetera eccetera Però non bisogna disperarsi perché è una notizia recente Che alla Apple stanno lavorando alacremente Per diciamo potenziare notevolmente E anche implementare alcune funzionalità nuove Per gli Apple Ads Apple Ads Adesso tutto questo ancora in Italia Non c'è C'è molto rumor eccetera eccetera Però da noi ancora non c'è Però io prevedo che Anzitutto questo discorso sia tutto collegato Nel senso che se io faccio il mondo di salvaguardare la tua privacy No? Da altre fonti esterne Vedi Facebook, Google eccetera eccetera Posso però intercettarti più facilmente Con i miei ads personali Della mia piattaforma Perché tu sei dentro al mio mondo Al mondo di Apple Ok? Quindi è più facile per Apple stessa Sfruttare queste nuove regolamentazioni Che si è autoimposta E ciò si collega anche al fatto Di che c'è adesso questa piattaforma Per autopubblicare i propri libri su Amazon Su Apple Se noi andiamo a collegare al fatto Che notizia proprio recentissima Stanno lavorando a questi Apple Ads Questi Apple Ads Sono degli ads che funzionano per l'Apple Store Ovviamente Prodotti venduti all'interno dell'Apple Store Quindi anche libri E quindi ritengo altamente probabile Che presto uniranno le cose Quindi uniranno sia la piattaforma Per l'autopubblicazione di Apple Agli Apple Ads E quindi a quel punto Una volta logicamente arrivati in Italia Anche va bene A quel punto avremo L'opportunità di targetizzare direttamente Gli utenti che leggono sul proprio iPad E acquistano i libri dall'Apple Store E questa è una cosa molto interessante È una grande notizia Perché a quel punto Non dovremmo più affidarci solamente a Facebook Facebook Ads Vi ricordo tra l'altro Il mio nuovissimo videocorso È appena uscito Trovate il link in descrizione Se lo volete acquistare E non solo Dovremmo affidarci agli Amazon Ads Tra l'altro anche lì Gli Amazon Ads Come sapete Ho creato un corso anche per gli Amazon Ads Trovate il link in descrizione Avremo quindi un'altra possibilità Ed è questa possibilità degli Apple Ads Ed è una cosa molto molto interessante Anche perché bisogna dire In generale si è notato che Soprattutto beh Questo nel mercato americano Però presumo che anche nel mercato italiano Le cose possono essere abbastanza simili Hanno verificato Che in generale I prezzi dell'Apple Store Sull'Apple Store Sono un po' più alti Quindi si riescono a vendere libri A prezzi più alti Sull'Apple Store Anche su Kobo In generale devo dire Rispetto ad Amazon Perché Amazon Tende ad abbassare molto i prezzi Tende a spingerti sempre di più Verso il basso Difatti no? Mi sembra Uno o due anni fa Cambiarono la propria policy Per permetterti di mettere A prezzo stracciato Il tuo libro Il tuo ebook Quindi adesso mi pare Che il minimo sia 69 centesimi Mentre prima Il minimo era 99 centesimi E quindi cerca di spingerti Sempre sempre più in basso Cosa che invece per ora Non sta facendo Apple O altri store E quindi Questo potrebbe essere Una soluzione Molto interessante Nuove prospettive di mercato Per chi intende Pubblicare Wide E quindi non dare solo L'esclusiva Ad Amazon Ma pubblicare anche Su altre piattaforme Quindi niente Fatemi sapere voi Che cosa ne pensate Se avete già esperienze Di vendere i vostri libri Sull'Apple Store Ditemi un po' Ok Lasciate un commento qui sotto E ci sentiamo Alla prossima Con un nuovo video Vedremo se sarà in formato Verticale Oppure Orizzontale Ciao a tutti Saluti dal Giappone Vado a Vado a farmi una dose Adesso Sì dai Adesso meglio Ma facciamo così Ciao Ciao